Signor Bordery, lei si è impegnato a mantenere i nostri posti di lavoro. Non un anno, non due anni, non tre anni, non quattro anni, ma almeno cinque anni. È un uomo di parola. Il gruppo ha mantenuto la domessa. No, noi non chiediamo la sua pietà. Le chiediamo solo di mantenere la parola data. O lei mantiene la parola e noi torniamo al lavoro, o non rispetta i patti e noi continuiamo a bloccare la produzione e le scorse. Sì, però va bene. La questione è chiusa. La giustizia in questo giorno è qui per dire no alla chiusura della fabbrica. La Costituzione sancisce la libertà di imprese, che vuol dire che il proprietario può aprire o chiudere un'azienda. L'azienda ha prodotto 17 milioni di euro di utili. Abbiamo un amministratore delegato che dice a un ministro andate a farli fottere, faccio come mi pare. Non è mai abbastanza, non gli facciamo mai guadagnare abbastanza soldi. Come finirà questa storia? Che ne sarà degli operai? 1100 persone senza lavoro, intere famiglie, bambini, padri, madri e neanche una parola. Io lotto per un assegno, un assegno che ci spetta alla fine di ogni mese. Per questo dobbiamo lottare tutti insieme. Non abbiamo più niente da perdere. Dovete andare via. È contro la legge. Mi stia bene a sentire. Noi non ci muoviamo da qui. Che non lo mangiarei? Andiamo in lavoro! Finita! La fabbrica è giusta! Qui stiamo morendo e vi mettete a litigare! Se non troviamo un punto d'incontro per riprendere il dialogo, la situazione finirà per degenerare. Ciao ragazzi, oggi ho un'interessante curiosità sul dietro le quinte del film Il Signore degli Anelli. Durante le riprese Christopher Lee, il compianto attore che interpreta Saruman il bianco, corresse il regista Peter Jackson sulla reazione di un uomo che viene pugnalato alla schiena. Il regista ha dichiarato che praticamente stava spiegando all'attore come voleva che eseguisse la scena, no? Ma l'attore a un certo punto lo ha interrotto chiedendogli Peter, ma tu hai mai sentito il suono che un uomo fa quando viene accoltellato alla schiena? Il regista ha risposto, no, è l'attore. Beh, io sì e so cosa fare. Christopher Lee fu coinvolto in alcune operazioni segrete per la Gran Bretagna durante la Seconda Guerra Mondiale ed è presumibilmente in quel periodo che imparò, ahimè, quel che nessuno vorrebbe imparare. Lo sapevate? Per oggi è tutto ragazzi, ci trovate anche su Instagram e Facebook, trovate i link nella descrizione del video. Io vi aspetto come sempre al prossimo video. Ciao da Valeria! Ciao da Valeria! Ciao da Valeria!